Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora su Black Myth Wukong e ovviamente come sempre sto recuperando tutta la roba che mi sono lasciato alle spalle che ovviamente è possibile recuperare perché in alcuni casi non sarà possibile recuperare come ho già fatto vedere anche in un precedente episodio con una side quest che purtroppo non potrò completare e dovrò magari ripeterle in New Game Plus sto iniziando a completare praticamente tutto quello che mi sono lasciato alle spalle e una cosa che mi ero lasciato alle spalle e che effettivamente non stavo neanche più ponendo sotto attenzione erano le iridi del Buddha. Queste iridi del Buddha che si trovano praticamente nel secondo capitolo ovvero quello desertico dove mi trovo in questo momento devono essere a quanto pare consegnate da qualche parte vedete? Un bulbo oculare estratto dalla testa del Buddha in preghiera scogliera di spavento che ovviamente sono le locazioni dove si trovano praticamente questi occhi, questi iridi del Buddha fondamentalmente che in totale sono sei quindi io non capisco perché mi dia quantità 99 perché sono sei fondamentalmente, io ne ho trovate sei, credo che non ne possa trovare di più dovrei controllare ma credo che non se ne possano trovare di più e devo consegnarle, credo di sapere anche dove in realtà perché c'era una statua che mi aveva incuriosito tempo addietro, anche in live mentre giocavo appunto in live c'era una zona dove ho detto ma non è che qua forse dobbiamo metterci qualcosa eccetera eccetera quindi io andrò direttamente lì perché già so dove tecnicamente dovrei consegnare questi occhi queste iridi quindi speriamo che la mia intuizione sia corretta perché mi darebbe fastidio andarmi a cercare una guida per vedere cosa fare visto che sono io stesso che sto facendo una piccola guida sugli oggetti chiave o comunque gli oggetti unici quindi andiamo a vedere io mi sono teletrasportato praticamente qui alla piana delle pietre perché? perché praticamente in questa zona a parte che qua ci sono comunque vedete queste teste di Buddha che dovrete appunto interagire per raccogliere le iridi del Buddha ma praticamente qui se non ricordo male c'era questa statua esatto e io praticamente vedete ha tutte queste teste vedete ha tutte queste teste praticamente incastonate e se lo colpisci vedete? cioè parte una sorta di musica la battaglia però aspetta un'interazione perché ho un'interazione? consegna lo consegni è come penso io vero? e vedi sto consegnando gli iridi sì e allora era questo me l'ero lasciato alle spalle perché questa era una di quelle su cui ero veramente certo che ero certo della consegna ecco shigandang ero sicuro ah minchia vabbè però essendo un boss dei vecchi capitoli dovresti essere più debole eh diciamo che gli obiettivi di steam comunque mi hanno aiutato tanto eh devo essere onesto fuori di pietra materiale devo ammettere che gli obiettivi di steam mi hanno aiutato molto in realtà sono sono sincero shakda della sensazione ma io tutti sti shakda che sto accumulando li dovrò trovare prima o poi questo era ciò che dovevamo fare di accumulato eh fondamentalmente nel mio gameplay di wukong visto che mi sto avvicinando praticamente alla fine e vorrei appunto eh diciamo completare tutto quello che mi è rimasto eh da completare prima di accedere poi alla parte finale o comunque al boss finale so che c'è un boss segreto eh c'è un boss segreto finale tipo il boss per il true ending però non so come sbloccarlo quindi spero effettivamente di poterlo sbloccare tramite tutti questi segreti che sto cercando comunque di accumulare durante il mio gameplay detto ciò io vi aspetto in live su twitch se volete venirmi a seguire ogni sera a partire dalle 21 circa potete venire anche su discord facciamo le serate discord solitamente il mercoledì dove guardiamo film anime discutiamo parliamo facciamo casino e quindi ci reaggruppiamo un pochettino insieme detto ciò io vi ringrazio per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima ciao